Pronti per Enel, ultimo video della giornata che però meritava di essere realizzato perché dopo tante sofferenze che ha riservato i propri azionisti oggi si è creata una piccola speranza di possibile quantomeno rimbalzo. Guardiamo subito il grafico assieme e vediamo che fortunatamente non è stato perso se non per qualche tic intraday il minimo che vi avevo indicato la scorsa settimana come target ribassista ovvero 4,056 minimo del mese di marzo del 2017. Oggi abbiamo fatto un minimo a 4,055 ma poi abbiamo chiuso a 4,189. Quello che è sorprendente, passiamo un attimo a Sfera, è notare l'accelerazione, questo è un banalissimo grafico lineare che noi usiamo quando siamo in bagarre nel trading noi trader professionisti. Vedete come il titolo era sotto 4,10 attorno alle 16,15, 16,17 poi è andato quasi a 4,20 ma veramente c'era un software che comprava in maniera incredibile. Io sono contento di questo per gli azionisti di Enel, però Enel purtroppo ha meritato la discesa che c'è stata fino al minimo odierno. E da che cos'è che lo evinciamo? Dal bilancio, questa è la semestrale, è vero che ci sono stati questi ricavi a dir poco buonissimi perché un più 85,3% e tutto sommato ha tenuto anche l'EBIDA perché vedete 8 miliardi e 200 milioni da 7,795 milioni, EBIT 3 miliardi e 900 milioni però da 4,447, quindi meno 12,3. L'utile netto del gruppo non è incredibilmente negativo, meno 8,3, 2 miliardi e 100 da 2,3 miliardi, però come al solito il problema è il debito che è stato addirittura di 62,238 miliardi da 51,952 miliardi, quindi il debito è salito di oltre 10 miliardi. Questa è la spiegazione del crollo di Enel, i tassi non sono più a zero, Enel ha questo debito monster per cui il mercato ha venduto il titolo. Cosa può accadere adesso? Può accadere che domani il titolo prosegua nella sua fase di recupero, vada a testare il massimo di questa shooting star di venerdì, 4,2435 e poi in sequenza vada a 4,3315 e probabilmente 4,435, 4,471. Oltre in questa prima fase mi viene un po' difficile da pensare, però quello che interessa a noi sempre a scopo didattico mi raccomando è fornire un'opportunità per chi dovesse provare a entrare sul titolo. Si poteva entrare anche questa sera, quindi 4,189, se non fa un gap up domattina incredibile, anche domattina può andare bene. Però, soprattutto per chi non è investito nel titolo da tempo in memore, è obbligatorio dal mio punto di vista fissare uno stop tassativo sotto 4,05. Intendo dire che domani posso anche comprare in apertura il titolo, a patto che io se la sera mi torno indietro mi stoppi già sotto 4,05. Per un semplice motivo, che il target successivo è addirittura 3,824 al ribasso. E in caso di rimbalzo, come già detto prima, non vedo oltre questo 4,471. Sì abbiamo qui un micro gap a 4,6325, però diciamo che questo sarebbe già un bel rimbalzo. Però non dobbiamo fasciarci la testa prima del tempo, nel senso che noi seguiamo giornalmente il titolo. Oggi è un primo segnale di risveglio. Vi ho fatto vedere quello che ha impressionato tanto noi trader professionisti, per cui era meritevole di un video. C'è da dire che l'intero settore utilities oggi ha effettuato un rimbalzo assolutamente convincente. Per cui se non ci siamo stoppati prima su Enel, è opportuno non farlo adesso, devo allo stesso tempo dire che chi avesse il titolo in portafoglio da diverso tempo, è molto difficile che nell'ipotesi anche più positiva ci fosse un bel rimbalzo del mercato nell'ultimissima parte dell'anno, non oltre questi livelli che sono poco sopra area 550. Questo parlando ovviamente in un'ottica di estrema positività, che significa che il mercato dovrebbe almeno rimbalzare di un 10-15%. Più realisticamente, e sarebbe una visione molto positiva, potrebbe andare su questi livelli poco sopra 5-15%, recuperare un 20-25%. Però, attenzione, scordiamoci per il momento, e deve passare molto tempo, i livelli di massimi che sono stati poco sopra area 9. Cioè, probabilmente in questo momento un rimbalzo sul titolo può partire, però, ripeto, come già detto nei precedenti video di oggi, step by step. Noi ci possiamo fissare dei target di massima, ok, questo abbiamo detto bene, 5,059 è il massimo del 13 settembre, 5,084 è quello del 19 di agosto, e qua abbiamo appunto 5,176. Però, sono target già molto ambiziosi, anche se molti potrebbero non crederlo. Perché sono target molto ambiziosi? Perché purtroppo Enel ha questo debito monster di oltre 62 miliardi di Euro, e con l'inversione della curva dei tassi, le banche centrali, né Fed né BCE, intendono tornare indietro dal percorso intrapreso, anzi vogliono proseguire con aumenti almeno di 50 punti base, finché non ci saranno dei chiari segnali di miglioramento dei dati sull'inflazione, di conseguenza Enel, finché rimane questa situazione di mercato, è destinata a soffrire. Nonostante questo, ripeto, un rimbalzo ci può assolutamente stare, abbiamo un primo target già ambizioso a 4,47,1, un secondo 4,63, 4,63,25, che è un micro gap, però sempre con lo stop in macchina, se il titolo dovesse chiudere sotto 4,05. Noi ci salutiamo qui per questa sera, domani sera caricherò ovviamente degli altri contenuti, considerate che se vedo dei temi che meritino un approfondimento, non avrò problemi anche domani sera a caricarveli, per cui mi raccomando vi aspetto dopo la chiusura del mercato diurno. Buona serata a tutti!